Il vettore trae un piacere impagabile, assistendo alla vendetta di un protagonista più generale, si pensi a un rischio di progetti, a fattori miserabili, o anche a Edmond Campeschi, il famoso romanzo d'Alessandro Tumà, che lo truisce sul tesoro. E Cristo riesce a fuggire dal carcere, perché ancora è stato vincuente da una falsa accusa con l'apartismo, che era stato registrato per tre giornali in amore, con un maligno che era corrotto. Ora, poiché il primo commesso di storia d'anno è rimasto impunito, però Dantes decide di farsi gestire, e se è probabilmente il capente di farlo. E' infracciabile. E' un po' di sicuro che lo hanno fatto farci e farlo per farlo. Ma il tema è presente anche nel cinema. Ricordo, mi vinto a ricordare un film che ha avuto molto spesso, negli anni settimane, nel 1984 esce «Distoro della notte» da Thomson, di cui appunto il protagonista è un ingeniero di attore di coscienza, che viene traumatizzato dall'omicidio della moglie e dunque dalla fisica inseguita al barattore. Il tema è la decisione. Il fatto è distrutto da sempre, ma non ha detto proprio la polizia che non c'è tanto, potente contro i livelli criminali delle volte delle persone che non hanno commesso. Il riposo alla vendetta è istituto. Funzionando come un riflesso incondizionato, possiamo dire soprattutto se il crimine è stato commesso intenzionalmente, ma la vendetta può diventare una scalezione propagare se stesse infinitamente, perdendo così i connotati di compensazione del crimine di potenza, che nel terminato e del vendetto appare come un fomento, c'è una certa violenza che minaccia l'intero della comunità. E qui la necessità di istituire una corruzione, che è un neopago, che è dato tutto il Consiglio di Graziani di Pene, come vediamo, di senso a farire la ostera. Ma il tribunale chiamato a punire i criminali e ad esercirla in prima non basta a soddisfare l'esigenza del tribunale nei confronti di tutti i problemi delle vicende criminali. La pena infritta e arreo consistente nella riflessione non è intesa come vendetta, che può essere disperitale, ma come esercito legittimo di una corcicione che ha una penalità periodicità, inspirata dalla fiducia del soggetto, non riducibile alle sue azioni, in quanto la persona possa rispettarsi e guadagnare la dignità rispetto della società. Se la vendetta è facile, il perdono è facile. Se la vendetta è oggetto di consenso immediato sia nella vittima che nello spettatore, e il perdono può essere addirittura argolito e negato nelle limitazioni del fatto. Quasi che il concederlo rappresenta una seconda violenza ai danni della vittima o uno speso alla sua memoria. Insomma, vendetta e perdono sono in perfetta antifesi, che sarebbero imporativi se non intervenisse l'istituzione della giustizia che assomma qualcosa dell'una e dell'altra. La restituzione al reo per simmetria del danno arrecato tipico della vendetta e insieme l'attenzione alla persona e al suo diritto di riscattarsi che caratterizza il perdono come risposta asimmetrica al crimine. Il perdono sicuramente non è mai una mera omissione della vendetta, ma non è neppure una giustiziazione della privata. E' allora necessaria la convivenza civile di persone che rivendicano l'esperienza di liberarsi dal partendo delle colpe attività nel corso della loro vita. Con il ciclo che inizia oggi, l'associazione culturale Antonio Rodmini propone di esplorare il tema del perdono nelle quattro tradizioni religiose, porto questo il piano giuridico e psicologico. Dottasera abbiamo come relatore Massimo Giuliani, studioso in segne che non avrebbe mai potuto essere presentato, il quadernato di perdono ebraico, ricordo che è professore alla cattiva del perdono ebraico presso l'Università di Trento, di Trento ebraica, del Collegio Raffinico Italiano di Roma, da un impegno. Docente di Cultura e dell'Università di Trento ebraica presso l'Università di Urbino di Gantos. E tra le ultime pubblicazioni ricordo l'Icorona della Torah, Logica Midrash ebraica ebraica, il capo del 2021 presso l'Università di Trento ebraica, le terze tavole della Shoah alla Luzia di Sideri, per gli iraniani, e la Filosofia ebraica del 2017 pubblicata dalla Scuola in Grecia. Grazie Claudio, è sempre un piacere per me tornare all'Associazione Rosmini, che sono già passato diverse volte e vedo volti noti, certo, degli anni passati e anche qualche ex studente che in realtà sono intellettuali sempre attivi nel tessuto della città di Trento. Quindi, e poi ci sono delle persone, ci sono nove persone collegate e non riesco a vedere naturalmente tutti, dei nomi, non dei rivolti, ma il nostro gruppo è allargato. Grazie davvero Claudio per questa opportunità di condividere con voi alcune riflessioni su un argomento che, come tu hai già anticipato, non è un argomento facile, ma è un argomento sempre di attualità e che ha tanti livelli di riflessione, ma soprattutto di vissuto, perché nessuno può sottrarsi a questa esperienza, come cercherò di far risuonare con questa riflessione. C'è un senso comune che il perdono è importante perché ci permette dei migliori rapporti sociali e tutto questo è molto vero, ma mi permettete di scavare un po', di non restare a questa ovvietà che è condivisa. Anche oggi sul sito di Repubblica c'erano quattro righe dedicate all'importanza del perdono, perché una certa società americana ha fatto un'indagine, quindi sono quelle indagini che scoprono sempre l'acqua calda. È ovvio che il perdono è importante, ma cerchiamo di capire che cosa significa questo. Un'ovvietà non vuol dire che non sia vera, un'ovvietà vuol dire che viene ripetuta in slogan, che però spesso non colgono la complessità e dunque la difficoltà di una pratica di cui abbiamo sempre bisogno, di cui l'uomo ha bisogno. Quindi vorrei cominciare con un paio di premesse che sembrano presentare la nostra tematica sotto due profili, uno che è un profilo antropologico in senso lato, etico, politico, morale, e un altro che è il versante più religioso, che forse è quello che voi volete sentire un pochino di più. Allora permettetemi di cominciare con una citazione di un rabbino americano riformato che ha scritto molto su tematiche della moralità. Si chiama Eliott Dorf, il rabbino riformato, il quale parlando del perdono poche righe dice questo, e vorrei anzitutto soffermarmi su questa riflessione, il perdono non implica che sia il malfattore, il cornefice, l'offensore possiamo chiamarlo, ovviamente sto traducendo dall'inglese, sia la vittima che ha subito un torto, un'offesa, quindi il perdono non implica che costoro le due parti in causa dimentichino il male commesso e subito. Al contrario è parte della rigenerazione morale richiesta nella giustificazione del perdono che il colpevole riconosca la violazione, faccia voto di non commetterla più e ricordi sia l'incidente sia il voto che ha fatto di non commetterla più in futuro quando la stessa situazione si ripresenta o può ripresentarsi. Ora, questo è un pensiero che raccoglie in sé quattro elementi che mi sembrano veramente importanti. Il primo è che tutto ciò che riguarda il rapporto tra offensore e offeso in qualunque termini si ponga, se va nella direzione di una richiesta di perdono e di una concessione di perdono, mira alla rigenerazione morale. Questo è una cosa molto molto importante perché come se il perdono fosse solo uno strumento di qualcosa e allora è uno strumento di che? Qual è lo scopo? La rigenerazione morale delle persone. Attenzione a questo punto di entrambe le persone, sia di colui che è offensore, sia di colui che è offeso. Ma il secondo punto è che questa rigenerazione è richiesta nella giustificazione del perdono. E qui veniamo a un passo molto più dedicato, a un secondo livello, che il perdono ha bisogno di una giustificazione. Qui voglio veramente sfidare un certo senso comune che pensa che il perdono è grande perché è senza giustificazione. E a questo livello etico e morale è falso. Il perdono non è una cosa gratuita, perché come tutte le cose gratuite non vale niente. Quando ci danno le cose a gratis non le teniamo nella stessa considerazione di quando invece le paghiamo, quando hanno un prezzo e quando facciamo un sacrificio per avere qualcosa. Se la cosa viene gratuita, vabbè, è gratuita. Oggi c'è, domani non c'è. Tutto viene livellato. Quindi questo tema che il perdono deve essere giustificato in qualche modo è un tema da non perdere di vista. E naturalmente tutto questo va al secondo livello, cioè il riconoscimento che c'è stata una violazione. La violazione è la stessa parola di violenza, ok? L'ignorare che l'offesa, il danno, l'infrazione è una violenza. Il non riconoscere l'elemento della violenza è un grave errore. Quindi occorre che questo riconoscimento parta dalla consapevolezza che c'è stato il torto e chi ha fatto il torto deve impegnarsi per avere un perdono a non commetterlo più, a non essere recidivo. Quindi il ricordo di quello che è avvenuto è necessario per rafforzare, come dire, il proposito di non commettere più. Perché chi è che vuole perdonare uno che poi il giorno dopo fa esattamente la stessa cosa? Che senso ha? Capite? Cioè, almeno, alla luce di i termini che compaiono, questi quattro livelli, cioè lo scopo, la giustificazione, il riconoscimento della violenza, della violazione e il ricordo, si tengono insieme per non commettere il primo, più ovvio se volete, degli errori, cioè quello di confondere perdono con dimenticanza o con oblio. Se uno pensa che il perdono sia solo un processo di dimenticanza, confonde due parole che tra l'altro in inglese sono molto simili, forgiving and forgetting. Ok? Sono molto simili, ma non sono la stessa cosa. Il perdono non è semplicemente un passare la spugna sul passato. Questo non è perdono, è oblio, che magari è anche necessario. Potremmo fare una conferenza sull'importanza dell'oblio. Benissimo. Ma il perdono non è una forma di oblio. Che cos'è? È quello che dirò adesso e cercherò di sviluppare in tutta questa mia riflessione. Il perdono è un processo, è un'elaborazione, è un percorso interiore ed esteriore. E allora a questo punto questo rabbino Dorff aggiunge qualcosa che dice quel che si realizza con il perdono non è la cancellazione della memoria, della ferita, del male subito e, dall'altra parte, del male commesso. Anche se a volte questa rimozione, questa cancellazione è desiderata e forse il primo a desiderarla è che è offeso. Perché non si può sempre vivere col peso di questa ferita. Questo è psicologicamente molto vero. Gli psicologi spiegheranno questo meccanismo. Tuttavia, quel che si realizza con il perdono è la rimozione della giustificazione del risentimento per il male subito in genere. Quindi il perdono non rimuove tanto la ferita quanto il risentimento che la ferita suscita. Cosicché la relazione tra le due parti, la parte che ha offeso e la parte che è stata offesa possa tornare alla normalità. Sono sicuro che qualcun altro dopo di me citerà Anna Arendt su questo punto e quindi io non voglio dire niente. Questo è il coté morale, etico e quindi i termini finora sono stati termini umanamente comprensibili, filosoficamente piuttosto chiari, spero, su questo punto. Adesso vediamo l'altro coté, cioè il coté religioso, che per l'ebraismo è estremamente importante per una questione che non approfondirò qui e cioè che la questione è così seria e così delicata anche dal punto di vista antropologico che dal punto di vista religioso l'ebraismo sostiene una tesi che il cristianesimo poi ha fatto propria e cioè che c'è solo Dio che può perdonare paradossalmente. Allora cosa vuol dire? Che gli uomini non possono perdonare? No, gli uomini perdonano a imitazione di Dio ma chi veramente detiene la facoltà, il potere di perdonare è solo Dio. Mi sembra che questa è una cosa che teologicamente cercherò un po' di approfondirla ma io non sono un teologo e l'ebraismo non ama fare della teologia per la teologia ma vedremo i riflessi di questo e li vediamo in un passo per esempio di una fonte poco nota anche della tradizione rabbinica la Toseftà è una raccolta molto antica che risale al secondo o terzo secolo della nostra era quindi vuol dire a 17 secoli fa circa un trattato che si chiama Bavakama che riguarda le questioni dell'amministrazione e la giustizia a un certo punto dice qualcosa che dobbiamo prendere come indicatore di quanto importante sia il perdono nella tradizione ebraica dice se una persona ha ricevuto un male cioè è stata offesa quindi ha subito un torto se una persona ha ricevuto il male anche se l'offensore non ha chiesto il suo perdono la parte offesa deve comunque chiedere a Dio dimostrare all'offensore compassione come Abramo ha pregato Dio per Avimelech è una citazione Genesi 20 versetto 17 Abramo ha avuto un torto da Avimelech ma prega Dio chi gli ha fatto un torto come Giobbe che ha pregato per i suoi amici che non gli hanno fatto un torto ma hanno come dire sono stati importuni nel momento della sofferenza perché andavano lì a dirgli che se soffriva è perché aveva fatto qualcosa che lui sapeva di non aver fatto nulla di male in conclusione Rabbam Gamaliel dice sia questo il tuo segno che se tu avrai compassione verso chi ti ha fatto il male Kadosh Barokku cioè il Santo Benedetto il Dio Benedetto che è compassionevole avrà compassione su di te fine della citazione capite che siamo entrati in un discorso piuttosto teologico visto che viene chiamato in causa il Santo Benedetto allora bisogna chiedere a Dio che il carnefice l'offensore sia perdonato ovviamente da Dio perché è Dio che perdona e fino a qui uno dice e va bene anche se l'offensore non si era veduto questa è una cosa veramente interessante quindi si chiede a Dio di perdonare chi ha fatto il male anche se chi ha fatto il male non si è perdonato su questo vedrete non tutta la tradizione è d'accordo anzi adesso vi farò vedere che non è esattamente così ma questa è una fonte antica che risale a 17 secoli fa meno il testo che abbiamo cosa più significativa è l'affermazione di Rabban Gamalieri che dice ciò che ti distingue sia il fatto che se tu avrai avuto compassione se tu avrai perdonato chi ti fa del male certamente il Signore perdonerà te questo Rabban Gamaliel voglio ricordarlo è uno dei più importanti farisei del suo tempo ok così importante Rabban Gamaliel prima di tutto era un contemporaneo di Gesù proprio contemporaneo di Gesù tutti sanno chi è Gesù ma nessuno sa chi è Rabban Gamaliel in realtà è così importante che negli Atti degli Apostoli è citato due volte una volta è citato come maestro di Paolo Paolo quello che cristiani chiamano San Paolo un'altra volta è citato perché quando gli Apostoli sono messi sotto inchiesta perché lui lui dice no lasciateli andare non non vedo perché la pensano così dicono quello che pensano non c'è bisogno di arrestarli quindi suggerisce che non vengano arrestati ok questa è l'opinione visto che i vituperati farisei di cui si parla sempre male in realtà se andiamo a vedere proprio nelle fonti cristiane questo grande eminente maestro che era un fariseo esce come un difensore degli Apostoli ma non è che sta difendendo cristianesimo sta semplicemente applicando le norme del diritto e della compassione ma che cosa sta dicendo in questa fonte una cosa molto semplice un pensiero farisaico che è entrato nella spiritualità cristiana esattamente nel Padre Nostro rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori attenzione questa frase è pari pari un pensiero dei farisei ok che non è che Rabban Ghamaliel un giorno si è alzato e ha inventato questo pensiero era la spiritualità normale dei farisei che dicevano se tu se tu avrai pietà degli altri certamente il Signore avrà pietà di te esattamente è quello che si chiede nel Padre Nostro non si dice perdonami in ogni caso si dice quello che in gergo rabbinico viene chiamato mi dà che nega mi dà misura per misura se io sarò stato misericordioso certamente il Signore sarà misericordioso con me e questo non è un principio che di amore gratuito è un principio di giustizia quindi nel Padre Nostro si chiede che Dio sia giusto con noi se noi abbiamo avuto misericordia e abbiamo attenzione perché ho proprio chiesto un po' di giorni fa a un amico biblista a Roma di spiegarmi il greco della parola debiti rimetti a noi i nostri debiti ho detto ma il greco che cosa vuol dire in questa parola e lui mi ha detto il greco vuol dire letteralmente debito nel senso economico un debito è una questione economica quando contraiamo un debito perché prendiamo qualcosa non lo paghiamo oppure ci facciamo fare un prestito e poi siamo in debito di qualcuno che ci ha dato un prestito ma dice e questo termine entra nel greco e certamente Gesù non ha parlato greco quindi questa parola non è di Gesù ok ma dietro c'è certamente un termine aramaico e poi Gesù parlava aramaico che nella polissemia tipica delle lingue semitiche vuol dire sia debito nel senso economico del termine sia peccato quindi capite che cosa significa se noi non c'è nessuno che dice il padre nostro e pensa ai debiti che ha contratto con il farmacista piuttosto che con l'orefice piuttosto che con il verduraio è chiaro che quei debiti sono debiti morali quelli che in termini religiosi chiamiamo i peccati capite ecco come si torna in qualche modo alla questione teologica si tratta di peccati rimetti a noi i nostri peccati come noi rimettiamo a coloro che hanno avuto delle infrazioni e allora vedete che il tema il tema del perdono è molto più apparentato mi dà che nega mi dà misura per misura è molto più apparentato col tema della giustizia che non col tema dell'amore e questo è un modo vedete non molto da senso comune uno pensa che perdonare è una questione di amore no perdonare è una questione di giustizia vedete vedete come le cose possono essere e poiché nella teologia ebraica Dio è giusto e misericordioso in lui le due cose coincidono ma poiché noi siamo noi e non siamo a Dio noi facciamo molta più fatica a vedere come nel perdono giustizia e amore convergono ci ho detto a questo punto ho tirato in ballo ho chiamato in causa il concetto di peccato ok e quando si pensa al perdono soprattutto in ambito religioso è chiaro che c'è il problema del peccato allora qui permettetemi di fare un piccolo flash ma da dove nasce l'idea di peccato ora in termini ovviamente simbolici no il peccato compare sulla scena delle scritture con Adamo ed Eva nel famoso capitolo 3 del libro della Genesi è una storia che tutti sanno così bene per cui non dirò niente ma la cosa che voglio dire è che la tradizione cristiana vede in Genesi 3 cioè nella trasgressione nella disobbedienza di Adamo ed Eva del non mangiare il frutto dell'albero che sta al centro del giardino è come dire il testo fondativo della dottrina del peccato originale ok il peccato originale è un'elaborazione che il cristianesimo ha fatto a partire da Agostino voi non trovate una dottrina del peccato originale prima di Agostino Agostino vuol dire tra il quarto e il quinto secolo e Agostino elabora il concetto di peccato a partire da Genesi 3 come un peccato metafisico tanto è vero che la tradizione cristiana dice viene trasmesso a tutti quelli che nascono che rapporto sta il perdono con questo peccato se l'uomo è colpevole metafisicamente e porta su di sé una colpa metafisica un peccato originale può l'uomo espiare questo peccato originale può l'uomo liberarsi di questo peccato originale ovviamente la risposta è no ma non la do io la risposta ma dal cristianesimo che ha bisogno di far intervenire qualcuno da fuori e sapete avete capito benissimo per liberarci il peccato originale l'uomo dunque non può farsi perdonare da sé poiché questo è un peccato troppo grave perché è metafisico e l'uomo non è metafisico l'uomo è una creatura storica ok l'ebraismo batte un'altra strada perché non legge genesi 3 come la fondazione di un peccato originale la dottrina agostiniana del peccato originale nell'ebraismo non c'è per cui nell'ebraismo non si nasce col peccato originale punto non si nasce con nessun peccato no lo voglio dire così in modo esplicito chiaro perché su questo punto ebraismo e cristianesimo stanno su due pianeti diversi qual è l'implicazione di questo che non c'è nessun bisogno che venga qualcuno a redimere l'uomo che non ha nessun peccato originale da farsi redimere allora vuol dire che non ci sono peccati e come no la Bibbia ci dice che ci possono essere tanti peccati ma sono i peccati non il peccato vedete la differenza cioè sono le trasgressioni sono i disequilibri sono quegli elementi di caos morale che l'uomo introduce nel mondo ogni volta che trasgredisce una legge che è pensata come ciò che regge il mondo l'ordine del mondo almeno del mondo secondo il pensiero di Dio perché questo è il senso ovviamente della legge nelle scritture nelle scritture bibliche ma dicendo che non c'è poi un peccato perché poi il problema che se c'è un peccato metafisico c'è il problema di dire da dove viene questo peccato metafisico il male assoluto il male metafisico da dove viene da dove viene Satana e il rischio è che uno pensi che accanto a Dio c'è anche un principio del male un principio del bene un principio del male ma allora qui siamo di fronte a un bi-teismo e l'ebraismo la cosa che vuol proprio fare è evitare che si pensi che ci siano due principi che reggono il mondo ce n'è uno solo c'è solo Kadosh Baruch Hu che ha creato tutto dunque in termini in rapporto al discorso sul perdono qual è l'implicazione che se l'uomo non ha bisogno che venga qualcuno a perdonarlo da fuori a redimerlo da fuori l'uomo può farsi perdonare da sé perché i suoi peccati non sono peccati metafisici sono peccati storici sono infrazioni morali e dunque l'uomo ha la possibilità morale di riparare queste infrazioni di riparare il male che commette il perdono è nell'ordine dell'uomo non è nell'ordine del divino anche se resta il principio che la fonte ultima del perdono è Dio quindi vedete sono due pensieri che vanno tenuti insieme anche se all'apparenza sembrano divergere allora a questo punto i peccati sono queste trasgressioni sono i disordini morali che noi introduciamo con dei comportamenti egoistici nel mondo qui la tradizione rabbinica distingue in modo chiaro due ordini di trasgressioni tanto è vero che la parola peccato proprio perché è così molto cristianamente connotata a volte è meno usata ma non è che non è usata c'è perché nella Bibbia la parola peccato c'è ci sono tante parole per dire peccato trasgressione infrazione violazione eccetera eccetera ma fondamentalmente si distingue tra peccati che l'uomo commette contro gli altri uomini e infrazioni trasgressioni peccati che l'uomo commette contro Dio a questo punto a questo punto io ho detto l'uomo ha le possibilità di come dire riparare questi disordini morali queste trasgressioni questi peccati come si allora ma come si fa come si fa qui dove allora andiamo in profondità perché capire come si fa riparare queste trasgressioni significa esattamente cercare di capire che cosa significa perdono che non è un termine magico non basta dire ti perdono o mi perdono o per risolvere un disordine che abbiamo introdotto nel mondo e allora bisogna qui lo voglio dire lo voglio dire citando beh anzitutto dico ancora un'affermazione un po' provocatoria però che mi sembra importante cioè che attenzione non c'è da nessuna parte in tutto il testo biblico qualcosa come un diritto al perdono ok non c'è un diritto al perdono c'è un dovere di farsi perdonare che è un'altra cosa e allora proprio perché voglio mettere enfasi su questo dovere di farsi perdonare una decina d'anni fa ho pubblicato con Paolo De Benedetti che qualcuno si ricorda qualcuno no è venuto a Trento per tanti anni ma adesso è morto anche da qualche anno un libretto che si intitola farsi perdonare il valore della teshuva ok questo librettino di Morcelliano è uscito un po' di anni fa una decina di anni fa più o meno ecco e se mi permettete vorrei qui ho riassunto in maniera abbastanza chiara qui in presenza di un peccato verso gli altri che in termini laici potremmo definire una mancanza di rispetto dell'altrui dignità un atto di irresponsabilità che pone o espone qualcuno al pericolo fisico morale un'infrazione del patto sociale che regge la convivenza eccetera allora chi commette uno di questi peccati e si precipita a chiedere perdono pensando che ogni colpa abbia diritto automaticamente al perdono si sbaglia una seconda volta come ci insegna il filosofo Paul Ricoeur grande pensatore del secolo scorso il nesso colpa perdono viene dopo molto dopo i nessi i rapporti colpa punizione e colpa espiazione sono cose che Claudio ha già detto in qualche modo accennato nella sua introduzione e solo quando punizione e o espiazione non riescono a elaborare la colpa e a compensarne i danni come se il perdono fosse un'estrema razio è l'ultima chance che va evocata solo dopo che abbiamo espletato il percorso dopo che ci siamo incamminati sulla strada della punizione e o dell'espiazione questo è quello che succede in ogni società sarebbe invivibile il nostro la nostra convivenza sociale se noi abolissimo il tema della punizione per chi sbaglia mettiamola in termini un pochino più leggeri se dicessimo che per chi fa evasione fiscale non succede niente benissimo però dove chiamo tutti evasione fiscale per chi passa con rosso non c'è nessuna multa allora passiamo tutti con rosso capisce se non c'è una una punizione rispetto a un'azione sbagliata fosse anche il passare con rosso al semaforo allora non ci serve più convivenza quindi la punizione che poi sia non sto parlando di punizioni fisiche una punizione pecuniaria cioè uno prende una multa ma qual è una punizione perché perché c'è una regola che è la regola che serve per la convivenza e chi la infrange deve pagare oppure per livelli più ovviamente più sofisticati c'è il tema di un'espiazione vera e propria perché la punizione può essere come Claudio ha già accennato prima pensata veramente in termini di ricostruzione rigenerazione morale allora questa questa volta non è solo una punizione per la punizione è una espiazione allora qui questo è un tema delicato delicato perché spesso i luoghi comuni una certa superficialità pensa che una volta che c'è la colpa subito bisogna pensare al perdono e Riccordi ci ha appena detto non è così tra la colpa e il perdono c'è un'altra cosa importantissima in mezzo ed è l'espiazione l'espiazione è il processo con cui se va bene possiamo avere anche il perdono ma nel momento in cui abbiamo fatto espiazione non abbiamo neanche più bisogno del perdono diventa un ideale regolatore in cui non abbiamo per niente bisogno perché le nostre vite devono essere sono ferite e queste ferite devono essere sanate attraverso dei processi delle elaborazioni e questa elaborazione ha un nome molto chiaro in ebraico ed è la seconda il titolo è farsi perdonare perché se io dico bisogna perdonare chi ha la responsabilità di perdonare? La vittima allora la vittima oltre ad avere il carico della sofferenza perché ha anche la responsabilità di essere lui che inizia il processo ma non è così il processo deve avviarlo colui che ha causato la sofferenza quindi è l'offensore che deve farsi perdonare ecco perché c'è il dovere di farsi perdonare e la vittima non ha nessun come dire dovere di perdonare non c'è il dovere di perdonare c'è il dovere di farsi perdonare di farsi perché farsi perdonare significa farsi carico della responsabilità delle proprie azioni quando uno si fa carico delle proprie azioni diventa responsabile e se la propria azione ha danneggiato chi ha danneggiato deve farsi carico deve prendersi la sua responsabilità e rispondere di quello che ha fatto allora tutto questo ha un nome nella tradizione ebraica che è teshiva che è un termine che può essere tradotto ed è tradotto normalmente in tanti modi può essere tradotto come pentimento perché il pentimento fa parte di questo processo chi non si pente non può riparare il danno che ha commesso ma può anche voler letteralmente teshiva viene da una radice shuv che vuol dire svolta in realtà il termine significa ritorno quindi è una grande metafora la teshiva per il cammino che uno fa per ritornare sulla retta via potremmo dire per semplificare le cose no ma un ritorno è un cammino un ritorno è un processo è un percorso ed è un percorso che la tradizione regola come tutte le cose umane quindi sottraendolo a ciò che come se il perdono fosse un sentimento ma dove ma quando i sentimenti vanno e vengono sono soggetti a un'infinità di cose no la teshiva non è un sentimento la teshiva è appunto un cammino che si fa secondo certe regole e allora posto anche che ci voglia una certa dimensione interiore una grande dimensione interiore perché se non c'è dimensione interiore cosa serve non c'è il cambiamento il cambiamento deve partire dal cuore il cuore allora proprio in un'opera scritta nell'undicesimo secolo da un grande maestro che si chiamava Bakiah Ibn Pakuda che scrive in arabo nella penisola iberica dell'undicesimo secolo che era sotto il controllo degli arabi e la lingua anche per gli ebrei era l'arabo scrive un'opera che poi è stata subito tradotta in ebraico ha avuto un grande successo in ebraico Hovot Alevavot che non a caso si chiama I doveri dei cuori I doveri dei cuori ed è veramente tutta un'opera che cerca di mostrare l'importanza dell'interiorità della motivazione interiore della dimensione spirituale diremmo oggi scrive questo grande trattato sui doveri dei cuori e tra questi doveri dei cuori c'è proprio i doveri della teshuva ok e quali sono i termini di questa teshuva noi potremmo anche chiamarle le norme le regole della teshuva che coinvolgono come dire quattro livelli la prima avere contrizione dei propri peccati cioè è la consapevolezza la presa di coscienza di che cosa abbiamo fatto di male il secondo livello desistere da questi peccati e allontanarseli quindi prendere azione allontanarsi dal peccato non è una questione sentimentale è una questione di cambiare di fare di fare un cambiamento di fare una svolta nella nostra vita quindi è il cuore della teshuva il terzo livello è confessarli confessare i propri peccati e chiedere il perdono qui attenzione e questo confessare i peccati non ha niente a che fare con la confessione cattolica di andare dal prete a dire i peccati e farsi assolvere la confessione dei peccati è riconoscere davanti a Dio e anche ad alta voce che abbiamo sbagliato ma riconoscerlo innanzitutto noi stessi e chiedere il perdono questa richiesta deve essere in qualche modo formalizzata non può essere solo un pensiero i pensieri vanno e vengono deve essere formalmente fatta questa richiesta e infine impegnarsi in coscienza a non ricadere più in questo peccato insomma dove sta arrivando la citazione è molto più lunga ma il tempo non ho tempo per leggere tutto il resto ma c'è un grande pensiero dietro questo questo modo di affrontare la questione della teshuva del processo del pentimento del cambiamento che produce in noi il perdono e ci permette di farci perdonare ed è il pensiero che il perdono è condizionale e questo è controintuitivo perché il perdono deve essere incondizionato no il perdono è condizionato cioè il perdono si può ottenere solo a certe condizioni è la spugna sulla lavagna che è incondizionata ma se è un processo se ha delle tappe in qualche modo che possono essere verificate e allora il perdono diventa qualcosa come dire che ha una una rilevanza morale e oggettiva perché se il perdono fosse invece semplicemente un atto di arbitrio anche un atto di arbitrio divino la nostra responsabilità sarebbe azzerata quindi il processo deve essere ancorato nel processo di responsabilizzazione di chi sbaglia e lo scopo deve essere anzitutto quello di ripagare chi è stato offeso colmare la lacuna riparare il male fatto quindi se la colpa è espiabile è alla fine del processo in qualche modo uno si trova riconciliato con il prossimo naturalmente anche con Dio nella misura in cui il comandamento che riguarda il prossimo ha come garante ultimo lo stesso datore della legge che è il Signore Benedetto il problema si pone se la colpa non è espiabile e qui devo per forza tornare a citare Bakià Iben Pakuta che parla nell'undicesimo secolo di peccati che possono non essere spiabili e dunque peccati che possono essere imperdonabili a parte che anche nel Vangelo a un certo punto Gesù parla di un peccato imperdonabile però è uno dei passaggi più oscuri del Vangelo perché cosa voleva dire che cosa si riferiva a Gesù che esistono dei peccati imperdonabili e qui lasciamo agli esegeti cristiani di risolvere questa questione non mi interessa ma è molto interessante che qui si si esplicita in questo trattato dell'undicesimo secolo scritto in arabo da un ebreo molto religioso e l'opera per esempio dice è difficile per molti aspetti espiare i peccati che si commettono contro gli uomini perché l'offeso può nel frattempo essere morto o abitare molto lontano e come si fa a riparare a un danno fatto a qualcuno che nel frattempo è morto se è morto non posso più non posso più farmi perdonare da lui non posso più risarcire il mio danno l'offensore può trovarsi nella impossibilità di riparare il danno che ha causato può vedersi rifiutare il perdono dell'ingiuria morale o materiale che ha commesso ci può anche essere il caso di chi non vuole dare il perdono a chi ha commesso un crimine oppure non conoscere oppure uno può aver fatto un male che ha colpito qualcuno ma non sa chi ha colpito quindi una vittima di cui non conosce neanche l'identità oppure non riesce a quantificare il danno l'ammontare del danno che ha fatto a questa vittima l'oggetto del furto può trovarsi incorporato in beni personali di uno che vuole fare penitenza che vuole fare teshuva ma adesso è molto difficile togliere quello che ha sottratto ad altri e qui i dottori del Talmud i maestri del Talmud fanno un esempio estremamente emblematico di un ladro che ha rubato una trave una grande trave e l'ha usata per costruire la propria casa allora mi dà che nega mi dà se vuoi hai rubato la trave restituisci la trave che hai rubato cosa c'è di più logico ma nel frattempo la trave l'ho usata per costruire la casa cosa deve fare e naturalmente i maestri del Talmud come sempre si dividono in due scuole in due scuole di pensiero allora Rabbi Shammai che è il più il più tosto dice molto semplice distrugge la casa prende la trave e la restituisce punto e da un punto di vista della giustizia ha rubato una trave ha rubato quella trave quella trave deve restituire non fa una piega invece Rabbi Leel che è il suo l'altro compagno l'altra grande scuola non è d'accordo con Rabbi Shammai e dice per rendere più agevole la riparazione bisogna che chi ha rubato la trave rimborsi colui per il valore economico della trave e così non deve distruggere la casa però vedete è interessante che il Talmud le due scuole presentino tutte e due le opinioni e non si può dire che una ha più ragione dell'altra da un certo punto di vista certo dice è molto più facile se alla fine quello rimborsa ma è solo un esempio non attacchiamoci all'esempio quello che conta è la logica che sta dietro quando si è nella difficoltà capite? è perché ed è in questa chiave che viene interpretato da tutta la tradizione rabbinica la cosiddetta legge del taglione occhio per occhio non vuol mica dire che bisogna andare a togliere l'occhio di chi mi ha danneggiato il mio occhio bisogna compensare ma la cosa è che quanto vale un occhio di una persona? quanto vale una mano di una persona quando questa non ce l'ha più? chi è che fa chi fa il calcolo? il giudice è facile dirlo il giudice e se chi non ha più l'occhio non ha più la mano non si accontenta di quello che il giudice ha detto e ha fatto per cui attenzione perché l'espressione occhio per occhio vuol proprio dire stiamo attenti perché il valore di un occhio è una cosa enorme è una cosa che un occhio può essere compensato solo con un altro occhio capito? quindi non vuol dire che bisogna togliere l'occhio dell'offensore vuol dire attenzione perché quando si fa un danno poi il quantificare anche solo il compenso finanziario è molto difficile perché poi quando uno è meno matto fisicamente non può più lavorare quindi non è solo il valore fisico ma le conseguenze del fatto che una persona meno matta non può più per esempio mantenere la propria famiglia capite che la cosa quindi il problema del del peccato inespiabile e dunque imperdonabile ok è una questione molto seria perché ci possono essere circostanze in cui veramente siamo di fronte a una trasgressione a un peccato a un caos morale che non si riesce a rimediare allora che cosa che cosa significa il perdono a questo punto capite che a questo punto entra la questione teologica cioè quello che l'uomo non può fare bisogna fidarsi a qualcosa di più grande al mistero di Dio ecco perché in ultima istanza ma tutto questo è come un'ipotesi di studio perché in realtà nella vita quotidiana la maggior parte dei nostri peccati sono assolutamente spiabili però bisogna fare un percorso e allora la tradizione ebraica ho ancora 5 minuti la tradizione ebraica ha come dire istituito una pedagogia particolare nella forma che è consona al linguaggio delle tutte le religioni fissando fissando delle feste dedicate a questo tema e guarda caso il momento in cui ci si focalizza sul fare teshuva sul riconoscere i nostri errori coincide con la festa del Capodanno altro che petardi e champagne ok il Capodanno ebraico è un giorno solenne di festa religiosa che inaugura che apre un periodo di dieci giorni chiamati giorni terribili altro che andare a gozzoviliare è un giorno in cui bisogna è come dire rientrare in se stessi e non un giorno addirittura dieci giorni si comincia un periodo di dieci giorni all'insegna di questa riflessione e questo è proprio all'inizio dell'anno come se il problema della teshuva fosse la chiave per vivere bene tutto il resto dell'anno perché se io prendo coscienza delle mie fragilità dei miei errori e che sono sempre davanti al giudizio di Dio perché questo è il tema di Rosh Hashanah del Capodanno l'uomo davanti a Dio questo è il tema del giudizio di Dio e allora mi metto in un atteggiamento spirituale che mi permette in qualche modo di stare attento di non commettere troppi peccati perché poi i peccati si commettono e questo periodo di dieci giorni culmina con il decimo giorno che è il famoso almeno per quelli che hanno un minimo di cultura il famoso Yom Kippur che vuol dire semplicemente giorno alla lettera giorno dell'espiazione il tema del giorno è il perdono perché si invoca continuamente il perdono divino ma non si chiama giorno del perdono o meglio nel linguaggio popolare si dice anche il giorno del perdono ma in realtà si chiama giorno dell'espiazione perché il perdono è il frutto di un atteggiamento che prevede il nostro impegno di responsabilità e nel mondo antico tutto questo veniva veniva concretizzato attraverso i sacrifici del tempio attraverso i riti di espiazione che avvenivano nel tempio poiché da duemila anni il tempio non c'è più vuol dire che allora non c'è più il processo di espiazione non c'è più il perdono nell'ebraismo no tutto è stato trasferito sul piano spirituale sul piano liturgico per cui è un processo che non ha più bisogno di sacrifici materiali ma ha bisogno del sacrificio interiore ha bisogno di rientrare in se stesso e di fare questa ammissione di peccato collettiva perché non è solo perché finora vedete il mondo cristiano tende a pensare tutto quello che ho detto in termini individuali niente di più sbagliato perché il mondo ebraico pensa tutto questo non in termini di individuo ma in termini di collettività per cui a essere peccatore è tutto il popolo davanti a Dio e tutto il popolo chiede perdono certo nel popolo poi ci sono quelli che veramente sono peccatori e sono anche i santi ma in quel giorno i santi chiedono perdono a Dio esattamente come i peccatori e per essere in solidarietà con i peccatori quindi il giorno di Kipur nessuno è più santo di un altro e nessuno è più peccatore di un altro si è tutti uomini fragili che devono chiedere perdono perdono a Dio e va bene qui a questo punto la mia riflessione che mi poi metterò per iscritto prevede una una citazione diciamo una citazione importante dal Tannude elaborata da Maimonide che è il più grande filosofo dell'ebraismo del dodicesimo secolo magari leggo semplicemente qualcosina perché l'idea fondamentale a riguardo la chiesta di perdono a Kipur è che il giorno di Kipur si chiede perdono a Dio per le colpe che abbiamo commesso nei confronti di Dio non è che uno a Kipur chiede a Dio di essere perdonato delle colpe che ha commesso con il suo fratello con il suo prossimo con il suo vicino con sua moglie con suo marito con i suoi figli se tu hai commesso delle trasgressioni che hanno offeso il tuo vicino il tuo prossimo il tuo marito tua moglie i tuoi figli tu devi andare da loro a chiedere perdono Dio non perdona le colpe che sono state commesse nei confronti il principio è neanche Dio perdona per conto terzi ok Dio può amare il peccatore e ama tutti i peccatori Ezechiele è molto chiaro questa è una importante citazione di Ezechiele Ezechiele 33 non voglio la morte del peccatore ma che si converta e viva profeta Ezechiele quindi stiamo parlando di sei secoli avanti Cristo ancora rigettate i vostri peccati e fatevi un cuore nuovo Ezechiele 18 21 i profeti sono già intensamente orientati a indicare che la strada è la penitenza è l'espiazione è la teshuva a chi pur si prende coscienza di tutto questo e il perdono di Dio ci serve per motivarci se abbiamo un problema con il nostro prossimo a correre a riconciliarci con il nostro prossimo ma non è che se confessiamo a Dio che abbiamo rubato allora siamo assolti del furto che abbiamo fatto se abbiamo rubato dobbiamo restituire a chi abbiamo rubato il maltolto se no non siamo affatto perdonati se no che cos'è questo perdono che se no se Dio dicesse sì sì ti perdono allora è una presa in giro capite questo non è più Dio perché non è non è il garante di chi è stato offeso non è il garante del debole non è il garante della giustizia è un Dio di comodo è un idolo è un idolo quindi come vedete l'Evraismo ha grande consapevolezza che si tratta di questioni estremamente serie che devono responsabilizzare e che rimane come un grande dubbio il problema se esista o non esista un perdono davanti a colpe che sembrano veramente imperdonabili e qui ovviamente nel libretto che ho scritto con Paolo De Benedetti ho proprio affrontato la questione con un capitoletto intitolato Il perdono l'imperdonabile e le porte della geshiva ecco e naturalmente per il mondo ebraico di oggi il grande il grande tema dell'imperdonabile si intreccia con la questione della Shoah e allora qui cito uno scrittore molto molto noto Simon Wiesenthal che scrisse forse il suo romanzo che non è un romanzo è una una novella morale un conto morale direbbero i francesi Il girasole è una storia di un giovane nazista che è in ospedale sta per morire e per qualche caso fortuito si trova davanti l'ebreo Wiesenthal e questo nazista ha commesso un crimine orrendo quello di aver bruciato vivi centinaia di ebrei in un caseggiato e che cosa fa Wiesenthal non gli risponde se ne va quindi è questo questa è di fondo è la tesi di fondo però è interessante perché Wiesenthal raffigura qui questo ebreo che non gli dice no non ti perdono ma non gli risponde cioè si chiude in un silenzio come per dire io non posso anche se volessi non posso perché perché ci vorrebbero loro quelli che tu hai ucciso loro sono quelli che dovrebbero perdonarti non io io non posso perdonare per gli altri noi non possiamo perdonare per gli altri ma questa è una cosa moralmente intuitiva noi possiamo perdonare per noi stessi ma ancora una volta più che perdonare noi abbiamo il dovere morale di farci perdonare per fortuna i nazisti non nascono tutti i giorni e nessuno di noi è un nazista quindi nessuno è nelle condizioni così estreme di cui si parla in questa in questa storia ma la questione appunto del evitare quei perdoni facili che in realtà non sono veri perdoni o sono forme di oblio o sono o sono degli alibi morali per non prenderci fino in fondo le nostre responsabilità e chiuderei perché è già esattamente 60 minuti che sto parlando con con un commento di Paolo De Benedetti a un versetto di un profeta profeta Osea capitolo 14 versetto 2 dove si ritorna o Israele al Signore tuo Dio ritorna è appunto lo stesso verbo da cui si origina la parola tesciva tesciva e commentando questo questo versetto del profeta Osea Paolo De Benedetti cita questa interpretazione di un antico testo ebraico che risale i primi secoli della nostra era i figli di Israele gli dissero Signore del mondo abbiamo timore delle nostre iniquità tante che sono e Davide disse salmo 38 le mie iniquità hanno superato il mio capo ed Esra nel libro di Esra disse le nostre colpe si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa le nostre iniquità la nostra iniquità aumentata fino ai cieli e che cosa rispose Kadosh Baruku il Santo Benedetto non temete il cumulo delle vostre iniquità se sono aumentate fino ai cieli e voi decidete di fare tesciva desiderando tornare io vi perdonerò e se anche si sono accumulate fino al primo al secondo al terzo cielo addirittura fino al settimo cielo anzi fino al trono della gloria se decidete di tornare subito io vi accoglierò questo è un antico testo che dimostra come anche se esiste la consapevolezza che non tutto è perdonabile ma le porte del perdono le porte della tesciva nella tradizione ebraica non si chiudono mai ok ultimissimo è un versetto che ritorna spesso nella liturgia ebraica è una citazione del libro biblico Eika le lamentazioni che nella Bibbia ebraica è un libro a parte mentre nella Bibbia cristiana è stato accorpato al profeta Geremia ma il libro delle lamentazioni Eika è un libro ebraico vero e proprio e c'è questo versetto al capitolo 5 versetto 21 Ascivenu eleka venasciva Kadeshi ammenu kekedan facci tornare e noi ritorneremo e rinnova i nostri giorni come in origine come in antico grazie grazie per la dubbia florentica e la questa bella visione e poi noi adesso stiamo nella situazione riflessiamo utilizziamo è impianare le 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 Qui abbiamo la mano gialla, se qualcuno vuole intervenire, invece è presenza, noi cambiamo con il tema del libro del libro, perché è chiaro che se qualcuno commette un fatto, la situazione di distanza e di libertà, non di più, quindi si rende conto strano, è chiaro che non può essere un fatto, ma nel senso, nel senso, nel senso, nel senso che ci stiamo, lo dico, in tipo mercato, il crimine, nel tempo stesso, ho detto che questo è possibile fare le possibilità di percorso, ma che ci va, appunto, il cammino di retorno, in questo senso. E poi chiede poi una cosa molto veloce, diciamo, «should» in tedesco, sia credibile che colpa, e allora, se provate che i due progetti non si potrebbero compondere, ma al tempo stesso ci faranno una parentiera profonda, quindi la colpa è un debito, diciamo, in generale, è una forma di debito. E a proposito dell'indebitamento, l'indebitamento è molto in senso materiale. se non ricordo male, come si inquadra questo? Sì, sì, ci avevo proprio pensato che poteva uscire questa cosa e tu giustamente l'hai sollevata. è una questione molto delicata, è chiamata l'anno del Giubileo. La parola Giubileo, che nel mondo cattolico viene usata per, diciamo, questo ciclo di 25 anni, dico bene, in realtà viene dalla tradizione biblica e anche il termine Giubileo è un termine ebraico, viene da Yubal, che indica questo suono del corno che veniva fatto per annunciare l'inizio di questo periodo così speciale, che avviene ogni sette per sette anni. Allora, sette per sette anni sono 49, il cinquantesimo anno diventa il Giubileo. Attenzione perché questa simbologia è molto importante, perché nella normativa che riguarda la vita economica, il ritmo non era quello dei cinquant'anni, ma il ritmo era quello dei sette anni, perché era l'anno in cui la terra doveva riposare. E far riposare la terra in una società agricola vuol dire lavorare per un anno e di cosa vive la gente, di cosa vivono i poveri. Ma attenzione, questa cosa aveva lo stimolo di ricordare comunque che la natura è generosa. Oggi viviamo in condizioni di così grande alienazione rispetto alla natura. Nel mondo antico ci si poteva permettere di rispettare il riposo della terra perché comunque la terra avrebbe dato frutti abbastanza per la popolazione che viveva, uomini e animali. Quindi, e in questo modo che cosa si instillava? Si instillava l'idea che noi non siamo proprietari e che la nostra vita non dipende solo dal nostro lavoro, ma dietro il nostro lavoro c'è la generosità della terra, la fecondità della natura, e c'è Kadosh Baruku che è il creatore del mondo e noi siamo parte di questo. Perdendo questa idea del ogni sette anni non si lavora, ogni sette anni si vive di quello che la terra produce, si instilla l'idea che l'uomo non è proprietario della terra. Ma per dire che l'uomo non è proprietario della terra c'è esattamente il sette per sette, cioè ogni sette setenari arrivava il cinquantesimo giorno e il messaggio era ancora più forte, e cioè il messaggio è che in quel giorno tutti i contratti di proprietà venivano annullati. Ora provate a pensare cosa significa in una società se noi dovessimo applicare che i contratti di proprietà sono annullati. Ok? E allora anche per la società ebraica antica questo era un problema. Quindi bisognava o trovare un escamotage, e questa è stata spesso una via seguita, ma diciamo gli studiosi ci dicono oggi che in realtà questo è uno di quei precetti che neanche nel mondo antico riusciva a essere osservato. Proprio per la sua complessità, ma non perché era impossibile da applicarsi, qualcuno ha pensato beh allora lo cancelliamo. Quindi rimane che nella Torah ci sono delle leggi così esigenti perché richiamano, in questo prevedeva la remissione di debiti, ma capite che allora si dice beh, adesso arriva il cinquantesimo anno, faccio un sacco di debiti, tanto l'anno me li risolve e non funziona così. Quindi la legislazione doveva prevenire questo abuso e una forma, il modo per prevenire l'abuso era di non applicare più in fondo la regola. rimane come valore etico, o come Kant avrebbe detto, un ideale regolatore, anche se non aveva trovato concretezza nell'applicazione. Non so se ho risposto, è una questione complessa della regola. Per i paesi più poveri, certo, ed è una questione di battuta perché anche qui, se noi diciamo un paese povero, arrivederci, buonasera, e diciamo un paese che si è indebitato, beh da domani i tuoi debiti non ci sono più, cioè questo può anche innescare un processo di totale deresponsabilizzazione o addirittura incrementare la corruzione dei governi che dicono, beh se non dobbiamo più rendere conto al fondo monetario o alla banca mondiale che ci ha fatto questi prestiti con cui ci siamo indebitati, beh a questo punto continuiamo a rubare, a corrompere e a fare default delle nostre società, capite? Quindi il principio del condonare i debiti anche economicamente può essere una lama a doppio taglio. Da una parte può sollevare i poveri, dall'altra parte può rendere peggiore la loro situazione perché i governi corrotti incrementano la loro corruzione, per cui anche da questo economico la cosa è molto più complessa di come sembra. Sì, perché se no non sentono quelli online, ci vuole. Allora, c'è una questione che ti compro da tempo. I pergolto e le tecniche hanno avuto responsabilità della sua. In Germania, anche nelle certe, si sente di parlare di processi. A gente che ha 90 anni, presto 100 anni, quel costante dell'Agea di Bostano è stato portato in Italia per essere processato su una carrozzina, forse passava, forse non era vero, per tutte le condizioni. Ma come può una giustizia chiamarsi giustizia quando interviene dopo 60 anni o 70 dai fatti? Io penso che qui la giustizia deve essere sorpresa. Non si può più parlare di colpa dopo 70 anni o di condizioni o di giustizia. È una questione evidentemente complessa e che io penso che paradossalmente il linguaggio religioso non ha neppure tutti gli strumenti per rispondere a una questione di questo tipo, perché è una questione di cultura giuridica. Esiste qualcosa nel sistema giudiziario, nel sistema giuridico, nella giurisprudenza. Ci vorrebbe un grande filosofo del diritto come Norberto Bobbio a gettare lumi su questa grande questione. E cioè se esistano colpe, se esistano reati, perché a livello giuridico non dovremmo parlare tanto di colpa, perché quando diciamo colpa, la colpa è nella sfera morale, il peccato è nella sfera religiosa, ma sul piano giuridico dovremmo parlare di reati. E la giurisprudenza conosce il tema del reato imprescrittibile, cioè che non cade mai in prescrizione, che non cade mai perché è così grande. E certamente i crimini, certi quelli che vengono poi chiamati i crimini contro l'umanità, sono tali che poi il problema è che devono essere portati a processo. Diverso il discorso se il giudice poi debba che tipo di pena possano avere, ma c'è differenza, un conto è che tipo di pena diamo a un uomo di 90 anni, ma il dire beh perché ha 90 anni allora il suo reato non è più un reato, e beh su questo sarei molto caldo, però la questione ha questi piani diversi, insomma c'è il piano morale e c'è il piano giuridico. Ecco, quindi la questione è esattamente in questi termini, cioè se è giusto che in un sistema giuridico esistano dei reati che noi diciamo imprescrittibili, ma anche nel nostro sistema giudiziario italiano ci sono. Ora io non sono un giurista, quindi non è che questa idea dobbiamo evocarla solo nel caso della Shoah. quindi comunque c'è un'ultima cosa da aggiungere su questo tema. Si portano a processo e vanno perseguiti coloro che, e bisogna accertare le responsabilità, certamente non vale a nessun livello il principio di una colpa collettiva e tanto meno il principio che i figli devono pagare per le colpe dei padri. In fondo la società tedesca è forse l'unica vera società in Europa che ha veramente elaborato con enorme sacrificio, e lo so perché negli anni in cui ho vissuto in Israele avevo dei buoni amici tedeschi, e ho visto, se mai i loro nonni, neanche forse i loro padri, forse i loro nonni, ma io ho visto nella generazione dei figli, dei nipoti, nel mondo tedesco, processi veramente profondi di elaborazione di una colpa che non avevano commesso, ma in questo caso purtroppo le colpe dei padri vengono a pesare anche sui figli, anche se i figli non hanno commesso le colpe dei loro padri, quindi non possono essere ritenuti colpevoli giuridicamente, ma la colpa morale può intaccare anche le future generazioni. a pesare anche le cose che non hanno commesso. Per questo che esiste l'istituto della prescrizione, ci sono dei reati che cadono in prescrizione, dopo un certo numero di tempo non sono più perseguibili. Il problema è tutti i reati, chi mette un limite e quali reati. Non stiamo parlando di una singola persona, forse io non ho presente neanche questo singolo caso, però la questione è una questione molto seria, quindi la domanda è importante. Grazie. Grazie a voi. Buona serata.